Ben trovati a una nuova edizione del telegiornale di Yes Life, vediamo insieme i fatti principali del giorno. E' morto Mikhail Gorbachev, ultimo leader sovietico, protagonista della caduta del muro di Berlino, nonché padre della piera estroica. Termine russo che indica il suo programma di ricostruzione dello Stato attraverso una serie di riforme politico-sociali ed economiche. Aveva 91 anni ed era malato da tempo, ce ne parlava in Salzagaglia. Mikhail Gorbachev si è spento in ospedale all'età di 91 anni, a seguito di una lunga malattia. L'Occidente piange l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, responsabile di alcuni dei cambiamenti epocali che hanno caratterizzato gli scorsi decenni. Il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, il disarmo nucleare, il ritiro dall'Afghanistan. Questi meriti che i vertici occidentali riconoscono al politico russo. Verrà sepolto a Mosca nella tomba di famiglia, accanto al corpo della moglie, rimasta gli fedele fino alla morte avvenuta nel 99. Più fredda l'accoglienza della notizia in patria, dove la sua figura rimarrà per sempre associata al declino della grande potenza dell'URSS. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che il romanticismo di Gorbachev verso l'Occidente non era giustificato e il suo progetto di creare relazioni cordiali con i paesi occidentali non ha funzionato. Diverso è stato il saluto di Joe Biden, leader americano, che lo ha definito un uomo raro e lungimirante. Aurora Ramazzotti in dolce attesa. Sarebbe questo lo scoop lanciato dal settimanale Chi? Approfondiamo con Melissa Randolina. Aurora Ramazzotti sarebbe in dolce attesa. Il settimanale Chi lancia lo scoop dovrebbe diventare mamma il prossimo gennaio per la gioia del suo ormai storico fidanzato con cui convive a Milano, il business analyst Goffredo Cerza. Al momento la figlia di Michelle Unzi, che era Eros Ramazzotti, rimane in silenzio. Sui social ancora non regala l'ufficialità della cicogna, ma neppure smentisce, come spesso, quando era accaduto in passato, aveva immediatamente fatto. L'amico di sempre, Tommaso Zorzi, scrive a commento di un post, a me non risulta. Il giornale, diretto da Alfonso Signorini, però è certo della notizia. Del resto, proprio Chi aveva parlato di una possibile gravidanza dell'influencer e conduttrice già a inizio agosto, quando Aurora e la mamma erano state pizzicate ad acquistare un test di gravidanza in farmacia durante la vacanza in Sardegna. Il giornale si era chiesto a chi delle due servisse. Michelle, 45 anni, ed Eros, 58, potrebbero essere al settimo cielo. Hanno sempre desiderato diventare nonni da giovanissimi. Il prezzo dei carburanti non si stabilizza e continua a essere troppo alto per le tasche degli italiani. Proprio per questo il governo ha deciso di lasciare in vigore il taglio delle accise. E' stato firmato oggi dal ministro delle economie e delle finanze Daniele Franco e dal ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani il decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, GPL e metano sarà dunque prorogato per oltre un mese. La situazione resta però critica, con un problema di ordine quotidiano che preoccupa i cittadini. A pagare di più sono gli utenti che posseggono un mezzo a diesel. Il prezzo continua a salire, superando anche quello della benzina. Nella settimana, dal 22 al 28 agosto, c'è stata un'impennata per il prezzo del gasolio per auto che è tornato sopra quota 1,80 euro. Cresce anche il costo del gasolio per il riscaldamento in aumento del 4,28%. Voto domiciliare previsto per i positivi in isolamento in Italia mentre la Cina torna in lockdown. Sentiamo gli ultimi aggiornamenti Covid con Valencia Dripilezzi. Isolamento dei positivi, campagna vaccinale e mascherine. Il ministro della Salute Roberto Speranza, intervistato da Radio Capital, ha parlato della situazione legata alla pandemia e delle prospettive future dopo la notizia di ieri delle nuove regole sull'isolamento dei positivi. Secondo Speranza i contagiati devono continuare a stare a casa mentre sulle mascherine ci sarà da valutare l'andamento epidemiologico. Ma la novità è che i positivi in isolamento potranno votare il 25 settembre con il voto domiciliare. Intanto la Cina ha disposto di nuovo il lockdown per milioni di persone allo scopo di contenere gli ultimi focolai di Covid, comprese città industriali come Shenzhen. A Dalian, per esempio, il blocco ha coinvolto circa la metà dei suoi 6 milioni di residenti per una durata di 5 giorni. A Shenzhen, almeno 4 distretti con circa 9 milioni di residenti sono stati interessati dall'ordine di chiusura. Questa è stata la nostra ultima notizia, noi siamo in chiusura e vi invitiamo a restare aggiornati continuando a seguire la nostra pagina Facebook e il nostro sito ufficiale www.yeslife.it Grazie per averci seguito, noi di Yes Life vi auguriamo come sempre un buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.